ciao a tutti e benvenuti nel canale in questo video vi spiegherò come completare una nuova sfida segreta in fortnite con l'aggiornamento di oggi la sfida è molto semplice e riguarda nuovamente i nani dovete semplicemente atterrare qui dove ci sono dei nani nascosti a sabbie sudate qua praticamente vedete dove c'è questa scalinata in legno praticamente gli gnomi sono sotto la scala quindi arrivate qui e la sfida segreta è completata eccoli qua vi avvicinate e li rompete